Ciao! In questa lezione ti spiegherò come funziona il pizzicato e lavoreremo sul ritmo. La tecnica del pizzicato. Innanzitutto, il pollice appoggia delicatamente sul pick-up e salirà sulla corda del Mi e sulla corda dell'A, a seconda del range in cui sto suonando, in modo da mutarle. Le dita che suonano sono il dito numero 1, indice, e il dito numero 2, il medio. Pizzicano la corda in questo modo. Finiscono la loro corsa sulla corda precedente e si alternano praticamente sempre. Se dovessi suonare la corda del Mi, la loro corsa finisce sul pollice. Quando suono la corda del Re, il mio pollice appoggia sulla corda del Mi, mutandola. La corda dell'A viene mutata dal ritorno delle dita mentre suonano la Re. La stessa cosa succede per il Sol. Il mio pollice appoggia sull'A, mutando contemporaneamente Mi e La. Il Re viene mutato dal ritorno delle dita mentre suonano Sol. Quando devo discendere da una corda, riutilizzo lo stesso dito con cui ho suonato l'ultima nota, ovvero da Sol devo passare a Re. L'ultima nota l'ho suonata con l'indice, dito numero 1. Riutilizzo 1 anche per suonare la prossima nota. La stessa cosa anche per il dito numero 2. Sono già qui sulla corda dell'A. Riutilizzo il dito numero 2. Ok, vediamo le varie combinazioni. Quando devo suonare una nota per corda, esercizio numero 1, ottengo questo 1, 2, 1, 2. Risuono Sol 1. Riutilizzo il dito numero 1 per suonare Re e tutte le altre note, in discesa. Re, La e Me. Alterno 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Devo suonare due note per corda, esercizio numero 2. Gli ottavi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Terzine di ottavi. Tre note per corda, esercizio 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. L'esercizio 4, i sedicesimi, utilizzo la stessa combinazione dell'esercizio 2, solo raddoppiata. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 durata dell'esercizio a battere il piede suonando i quarti, proprio come fa il metronomo. Il metronomo ci aiuterà a capire quando stiamo accelerando o rallentando, in modo da essere più precisi possibile. Dedichiamo un paio di minuti a ogni esercizio, in modo da interiorizzare ogni figura ritmica, ad esempio i quarti, gli ottavi, terzini e gli ottavi, sedicesimi. Grazie e buono studio! Esercizio 1. Quarti Esercizio 2. Ottavi Esercizio 3. Terzine di ottavi Esercizio 4. Sedicesimi Esercizio 5. Festi Esercizio 5. Sorg Grazie a tutti